Con un final table di questo spessore, presentare i finalisti è compito quanto mai facile. Chi non conosce gente come Max Pescatori o Filippo Candio, Emiliano Bono o Alessandro Speranza? Probabilmente perfino la casalinga di Voghera ormai sa che il pirata di GD ha vinto due braccialetti in carriera, che Pippo Candio ha fatto quarto alle Vusop o che Bono è fresco di secondo posto all'EPT di Praga. Nel dubbio però, procediamo ugualmente con la presentazione dei Magnifici 8 che domani si giocheranno il tavolo finale della Notte del Poker. Seguitela in fino in fondo, mi raccomando, questa presentazione e vi sveleremo una interessante indiscrezione su uno dei più forti giocatori italiani. Ciao a tutti, sono Alessandro Speranza, ho 19 anni e vengo dall'Aquila. Domani partirò chip leader in questo tavolo finale, un tavolo finale che è davvero molto bello, con giocatori molto forti, quindi non perdetevi l'azione perché sarà davvero un bello spettacolo. Sono Giorgio Silvestrin, vengo da Padova, sono un giocatore di Cache Game e spero domani di piazzarmi abbastanza bene. Fabio Scepi, abito a Treviso ma sono napoletano, un tavolo finale per me importante e spero domani di fare una buona figura, poi si vedrà. Ciao ragazzi, Marco Figuccia, sono anch'io di Treviso e 406.000 fish, domani cercherò di vincere anche se sarà molto più difficile rispetto all'altra volta che invece avevo trionfato alla grande. Ciao a tutti, sono Antonino Bullo, vengo da Catania, trapiantato qua al nord, ho intrapreso questo gioco da una decina d'anni e spero domani di fare una bella figura con tutti questi campioni al tavolo. Ciao a tutti, sono Emiliano Bono, devo dire con grande entusiasmo, sono di Roma ovviamente, sono contentissimo di essere a questo tavolo finale. Sono Rocco Sifredi, ho 32 anni e parto con 30 centimetri di riesco. Ciao a tutti.